Voglio oggi insieme anche a tutti gli altri che stanno manifestando nelle città italiane e d'Europa descrivere e descrivere delle città diverse queste sono le città che ci piacciono, che parlano molte lingue come sta facendo questo corteo per questo siamo qua oggi, in marcia per i diritti perché le politiche in tema di immigrazione sono politiche di guerra e producono morti e lo abbiamo visto, lo abbiamo visto e lo vediamo ancora oggi a Lampedusa dove le persone che scappano dalle guerre che vengono e marcano la fortezza Europa per cercare fortuna muoiono, queste ci sono dei responsabili sono le politiche in tema di immigrazione e i governi che fanno queste politiche a Lampedusa insieme a tanti e tanti altri ci siamo ritrovati per scrivere una carta che parla di libertà per tutti e tutti perché sconfiggere le politiche di immigrazione significa aprire percorsi di libertà che riguardano tutte e tutti noi perché le frontiere le vediamo le vediamo a Lampedusa con la militarizzazione dei territori le vediamo nelle nostre città con i Cile con la detenzione amministrativa ma vediamo anche le barriere che impediscono l'accesso al diritto alla salute all'istruzione nelle questure dove vengono continuamente bloccati i permessi di soggiorno le vediamo quotidianamente queste sono le barriere che combattiamo e le facciamo insieme a tutte e tutti perché vogliamo costruire delle città è un'Europa diversa che parla di diritti e non di sfruttamento di esseri umani basta stragi in mare basta morti libertà per tutte e tutti